Ciao Oscar, ben tornato a Pentiolari. Ciao Barbara. Io vedo qua dei tubi, delle piante, i tubi. Sì, oggi faremo un giardino ecologico molto industriale. Iniziamo questo tubo in acciaio. Questo cos'è? È un tubo che si usa per le stufe, per le cuscine che vendono, in qualsiasi negozio che vendono prodotti idraulici. È un tubo molto divertente perché tu le puoi allungare dalla forma che tu vuoi. Allora noi iniziamo a lavorare con il tubo, lo allunghiamo e le diamo la forma che noi vogliamo. Sembra vivo. Sì, sì. Una volta che abbiamo dato la forma, che abbiamo deciso la forma definitiva, prendiamo le forbici del giardiniere e poi comincia a fare dei piccoli tagli all'interno, si taglia facilmente. Una volta che abbiamo finito di fare i buchi e abbiamo deciso già la quantità di piante che metteremo, cominciamo a prendere le piante e le foderiamo con la carta estagnola. E le andiamo a inserire all'interno. E poi rimane un giardino morimo. Bellissimo. La stanza rimane molto irritante. Bravo.